Questa è la prima parte di quello che avevo da dirvi. La seconda parte è come è stata costruita la persona pubblica, quali sono i modi attraverso i quali si sono formati i diversi noi politici che si sono susseguiti nel corso delle epoche della nostra civiltà. Diciamo che ne avrei identificati quattro, non è detto che siano susseguentisi, molto spesso si intrecciano, ma certo vi sono tendenze verso l'uno o tendenze verso l'altro e sono tendenze di carattere storico. Quali sono? Il modo di costruzione del noi collettivo costruito sulla diade caput corpus, testa-corpo. Testa-corpo è, nell'ambito del pensiero politico, lo stesso che dire paternità, cioè un elemento organico. Qui siamo nell'organicismo. Abbiamo un noi collettivo che è un organismo. questo organismo ha al proprio interno delle gerarchie. Il noi collettivo esiste perché esiste un organo che lo impersona. Questo organo che lo impersona è la testa nel corpo umano o è, se vogliamo entrare in una metafora di carattere familiare, il padre. Ovvero, qui abbiamo quella dimensione che è l'auctoritas. L'auctoritas, cioè la facoltà che qualcuno dotato di potere paterno ha di far crescere qualche cosa che è organo di un tutto. Un tutto di cui qualcuno che fa crescere è il motore. Il modello di questo è Augusto e le res geste di via Augusti, dove per l'appunto Augusto è un de verbale d'auctoritas. Modello di lunghissimo periodo. La nozione di paternità all'interno di un pensiero organicistico giunge fino a noi. Il padre della patria, che implica che esista una patria, è il modello, forse primario, del noi collettivo. Noi collettivo vuol dire, a questo punto, siamo tutti fratelli ma non siamo fratelli e basta. Non siamo fratelli orfani. Siamo fratelli perché abbiamo un padre. E lì ci impersona, ci fa crescere, modo potentissimo di pensare al noi collettivo. Un secondo modo di costruzione del noi collettivo si gioca intorno alla nozione di pars prototo, ovvero di rappresentatio identitatis. Voglio dire, è questo il tema della corporazione, un tema che nasce all'interno del pensiero teologico tardo-medievale e consiste nel fatto che una parte sia capace di parlare e interpretare in nome del tutto. era la teoria conciliare. Il concilio può parlare nel nome, è una corporazione che può parlare nel nome della Chiesa universale. La corporazione fatta da tot persone degli orefici può parlare a nome degli orefici. È una parte che parla per il tutto. La corporazione è un altro modello di costruzione del noi collettivo assolutamente potente che è stato presente nella panoplia del pensiero politico fino al XX secolo. Terzo modo, quello tipicamente moderno, che è diversissimo tanto dal primo quanto dal secondo. Cioè il tema della rappresentanza come persona. Che vuol dire? Il modo migliore per capire che cos'è la rappresentanza è decifrare il fronte espirizio del libro di Thomas Hobbes, il Deviatano. Dove c'è un sovrano che è un noi collettivo. Questo sovrano non è il padre, non vuole esserlo e non c'entra niente col padre. Questo sovrano è costruito, cioè si trova all'interno di una concezione dell'umanità e della società assolutamente non organicistica. Gli uomini non hanno piacere a stare insieme, devono stare insieme ma non hanno piacere, non formano spontaneamente alcun corpo. Il sovrano non è la testa di un corpo che fa crescere il corpo. Il sovrano fa esistere quel corpo. È un perimetro dentro il quale stanno i cittadini. Se non ci fosse quel perimetro, non ci sarebbero i cittadini. Il sovrano rappresenta, non in quanto una parte si vuole essere presa come tutto, corporazione, no. Il sovrano non è un noi nel senso di un padre dotato di auctoritas, no. Il sovrano è il perimetro, cioè il trascendentale della vita associata, ciò che consente la vita associata. Senza di esso non c'è vita associata. Nel sovrano noi rappresentiamo la nostra voglia di vivere insieme, la nostra volontà di vivere insieme. non rappresentiamo altro. Cioè, nel sovrano ci rappresentiamo come cittadini. Allora, il sovrano è una persona, detto esplicitamente, che impersona il popolo. è una persona ficta, cioè una persona finta, è una finzione, una finzione straordinariamente efficace. È una finzione, non c'è in natura il sovrano, è un costrutto razionale dell'uomo, grazie al quale noi ci inventiamo una figura. Questa figura è ciò che ci consente di vivere come cittadini. Noi non chiediamo di vivere insieme come esseri umani interi. Ci accontentiamo di vivere insieme come cittadini. L'essere umano intero scompare. L'alienazione moderna fra uomo e cittadino. Detto in un altro modo, la modernità consiste nell'uscire dallo Stato di natura. Chi vive insieme non sta vivendo insieme in natura, sta vivendo insieme in artificio. È il nostro modo di pensare la politica. Quel sovrano è lo Stato. Nelle costituzioni moderne quello che Hobbes scrive e disegna in quel frontespizio è il Parlamento nel quale si rappresenta un popolo. Si rappresenta l'unità di un popolo. Naturalmente come cittadini. Cioè tutti i cittadini hanno concorso a formare, se hanno voluto, hanno concorso a formare quel sovrano. Quel sovrano quando parla fa legge, dice una cosa che è cogente, perché quel sovrano rappresenta tutti, con un problema. Perché siccome Hobbes era intelligente e vedeva le questioni, quel quell'io enorme, quel macro-anthropos che è il sovrano, è tutto fatto di cittadini. I cittadini, quando sono dentro di lui, sono tutti uguali. cioè hanno tutti una maschera. Nel caso specifico, in quel fronte spizio, sono tutti visti dalle spalle, perché le loro teste sono tutti voltati a guardare in faccia il sovrano. Per cui ci sembrano tutti uguali. Come quando si va a votare, siamo tutti uguali. Il sovrano ha una sola parte che non è composta da cittadini. una sola parte del sovrano. Tutto il suo corpo è fatto di cittadini. Una parte non lo è, la testa. Il sovrano fa di testa sua. È un mio collettivo costruito dai cittadini il cui obiettivo è consentire la vita pacifica delle singole persone in quanto cittadini e tuttavia non è un pupazzo nelle mani dei cittadini. Ha una autonomia. appunto l'autonomia della politica rispetto alla società, l'autonomia delle istituzioni rispetto alle persone. Ecco, da qui non si esce. Lo scopo della modernità è tutto di costruire il sovrano, cioè costruire un io collettivo che sia il più possibile simile a tutti i singoli io individuali e di abbattere lo iato, la discrepanza che c'è fra l'io collettivo e l'io individuale. Rendere l'io collettivo il più possibile l'organo esecutivo della nostra volontà, privarlo il più possibile della sua autonomia ed è precisamente quello che in forma assoluta non si riesce a fare. Il punto di approssimazione più alto è probabilmente il neocostituzionalismo, cioè quell'insieme di dottrine intorno a cui si è formata tra le altre ad esempio la nostra costituzione repubblicana. Adesso ci arriviamo. Quello che voglio dire è che il modo moderno, razionalistico, costruttivistico è tutt'altro che centrato sulla contrapposizione fra la persona e il potere è centrato sull'isomorfismo sistematico fra la persona e il potere. Il potere collettivo è una persona e noi non ne abbiamo alcuna paura perché l'abbiamo fatto noi con l'obiettivo che egli difenda le nostre personalità. Certo, c'è un prezzo, la nostra personalità viene difesa in quanto noi siamo uguali gli uni agli altri, cioè in quanto indossiamo la maschera del cittadino e l'altro prezzo è che quella macchina che abbiamo costruito non è solo una macchina, non è un robot è un uomo e comunque ha un'autonomia prende decisioni legittimato da noi prende decisioni al posto nostro. Lo abbiamo costruito apposto. Abbiamo trasmesso a lui la nostra volontà quindi quello che fa lo dobbiamo accettare come se fosse nostro. Tutte le volte che ci crescono le tasse noi lo accettiamo come se fosse nostro senza necessariamente esserne entusiasti. C'è una discrepanza fra il volere individuale dell'individuo e il volere di quell'individuo collettivo che è lo Stato anche se lo Stato l'abbiamo fatto a noi. Non funziona come trasmissione semplice del potere. Non esiste la possibilità di trasmettere le volontà dei singoli io all'io collettivo. Perché? Ma perché i singoli io hanno volontà soltanto in quanto sono contenuti all'interno di quel perimetro in quanto sono contenuti